La regina è andata su Twitter, pochi giorni prima di Natale, per sostenere Kate, la duchessa di Cambridge, il concerto di canto di Natale.L'account Twitter ufficiale della famiglia reale ha ricordato al pubblico il concerto di canti natalizi cancelletto together at Christmas che sarà trasmesso la vigilia di Natale. Diceva, unisciti al duca e alla duchessa di Cambridge, con altri membri della famiglia reale. Nell'abbazia di Westminster, mentre accolgono persone straordinarie per uno speciale servizio festivo. Come da tradizione tedesca, la famiglia reale di solito si riunisce e si scambia doni a Sandringa 1024, ma a causa del Covid-19 purtroppo questo non avverrà. Invece, si sintonizzeranno tutti sul concerto di canto di Kate. Invece, si sintonizzeranno tutti sul concerto di canto di Cina. Invece, si sintonizzeranno tutti sul concerto di canto di Cina. Invece, si sintonizzano tutti sul concerto di Cina.